Allora andiamo avanti, vedete che in una trend lineare, come ho detto, ci sono poche occasioni di acquisto e queste poche occasioni chiaramente vanno sfruttate. La situazione cambia quando il trend passa da lineare e rialzista a una fase di trading range laterale, allora in quel momento, a quel punto il movimento diventa oscillatorio e quello che aveva funzionato fino a quel momento funziona un po' meno bene. E quindi funziona molto bene invece un oscillatore appunto di tipo ciclico come il Composite Momentum con le sue giunture di acquisto e di vendita che sono abbastanza morbide ma anche abbastanza sensibili. Ecco Francesco, scusami, ti riporto un po' di feedback da casa, ringraziamo Giuseppe, Riccardo, Luca, Giacri, tutte le persone che gentilissimamente ci hanno segnalato il problema e che adesso chiedono chiaramente se puoi velocemente riassumere. Ti anticipo che possiamo anche andare oltre l'orario di termine previsto in modo che tutti abbiano modo di recuperare quanto perso. Grazie a te e a tutte le persone da casa. Grazie a te Stefano, perfetto. Allora cerco di riprendere da prima, faccio un piccolo riassunto di quello che è stato detto. Allora, cosa sono questi tre indicatori? Questo è il Composite Momentum, questi sono due RSI, un RSI a 14 periodi e un RSI più corto a 4 periodi e questo è un Directional Movement, invece un indice direzionale, è settato a 5 periodi dove io ho levato praticamente la banda dell'istogramma, quindi l'istogramma che di solito viene plottato direttamente dalla T3 perché voglio concentrarmi sui punti di incrocio del D+, sul livello di dove arrivano quando sono in ipercomperato o in ipervenduto e sulla accelerazione dell'ADX che è quello nero che serve per misurare l'intensità del trend. Sulla base di questi oscillatori cercheremo di fare un outlook degli indici partendo chiaramente dal principale che è l'S&P. Quello che avevamo visto era che questo mercato di fatto non sta performando da oltre un anno e quattro mesi perché è ancora adesso sui livelli di chiusura di fine 2014. Chiaramente questo è vero per l'indice che tra l'altro è uno di gran lunga degli indici più efficienti che ci sono al mondo, quindi io lo dico tante volte anche nei seminari, questo è un indice dove non andare mai short perché se voi avete ragione andando short su quest'indice avrete sicuramente più ragione andando short su qualche mercato che è meno efficiente e più debole anche nella sua costruzione interna di questo. L'indice che in Europa è paragonabile se vogliamo all'S&P come efficienza è il DAX che anche lui di gran lunga è l'indice più efficiente e quello dove comunque è più difficile cercare di fare i soldi a ribasso. Allora, voi vedete che siamo in una situazione di stallo in questo momento, vedete che il mercato ha fatto due tentativi a ribasso abbastanza violenti e volatili, poi si è ripreso tutte e due le volte, si è riportato tutte e due le volte su un livello che abbiamo visto tantissimo nel passato che è questo livello del 2050, questa era del 2050. Qui si è creata una resistenza importantissima in area tra il 2080 e il 2115. Questa resistenza è il vero ostacolo, il vero ostacolo è questa resistenza e non sono i massimi storici a 2135. Quindi è questo blocco che il mercato sta cercando di affrontare per cercare di superarlo e di reinnescare un movimento rialzista. Io ho preciso una cosa che poi diremmo nella seconda parte, e cioè che questo mercato è tutto tranne che cheap, a buon mercato. Se voi scaricate un qualunque applicativo che vi fornisce il price earning dell'indice Standard & Poor's, voi vedete che i price earning attuali sono intorno al 19. Quelli prospettici sono prospettici e quindi sono comunque passibili di variazioni. La realtà è che questo indice non è a buon mercato. Al di là delle valutazioni macro, noi che siamo seguaci di quello che dice il mercato e non lo mettiamo mai in discussione, notiamo che appunto c'è questo blocco molto importante verso l'alto. Verso il basso, che è altrettanto importante, c'è un'area di supporto fondamentale tra il 2000 e il 1980, che è il punto dove questa media, vedete questa media nera, che io sto facendo vedere in questo momento, ha fatto il suo ultimo flesso quando è stata perforata al rialzo durante l'ultimo rally. Questo è l'area del 2000-1980, oltre ad essere un supporto psicologico, è anche un supporto quantitativo molto molto importante, molto più importante, se volete, anche di quello che sta sotto, che è magari molto più visibile. Se noi scaliamo e andiamo a vedere a livello giornaliero, un'ultima cosa per completare il quadro settimanale, vedete che qui abbiamo il momentum in discesa, vedete che abbiamo gli RSI tutti e due vicini al 50, quindi in posizione di neutralità, e abbiamo anche il D+, il D-, che sono in contrazione con la direzionalità, anche quella nera, in discesa. Questo è un mercato senza trend. Andiamo a scalare e vediamolo su base giornaliera. Vedete su base giornaliera che anche qui, durante le fasi di rialzo del mercato, tutte le giunture di acquisto che sono definite dai flessi positivi del composite momentum corrispondono a delle fasi di riaccelerazione, e sono anche ben sottolineate dal fatto che in basso, vedete che il D+, è costantemente sopra il D-, quindi in questa fase la cosa giusta da fare è quella di sfruttare le correzioni per individuare dei punti di riaccelerazione del mercato e andare soltanto in posizione long su una base giornaliera, quindi evitare di andare sempre a cercare i massimi del mercato quando il mercato sale e i minimi del mercato quando il mercato scende, perché queste sono le due cose che sono meno rewarding e più rischiose di tutta l'attività operativa in generale, quindi in particolare di trading. Vedete che in questo momento il mercato conferma questa sua lateralità di fondo, vedete come le ultime oscillazioni sono state delle oscillazioni tutte mantenute in una banda molto stretta, le Bollinger Bands si sono ristrette, si sono chiuse e confermano se vogliamo quello che abbiamo visto prima, cioè che c'è questo supporto importantissimo un po' sotto 2.000, qui addirittura è anche sopra il 2.000 e c'è questa resistenza altrettanto importante nell'area del 2.100, diciamo tra il 2.80 e il 2.115. Questo è un mercato su cui operare solo e soltanto in breakout, quindi solo e soltanto nel momento in cui dare un segnale di direzionalità, perché vedete che come su base settimanale e anche su base giornaliera la direzionalità è praticamente azzerata. Vedete che c'è la DX che sta scendendo, di plus e di minus che sono molto vicini, ma continuano a incrociarsi senza dare nessun tipo di profittabilità. Se vogliamo aggiungere una cosa, il composite momentum daily è vicino a una possibile giuntura di vendita, però questo non ha nessun tipo di implicazione fino a che non ci sarà un segnale direzionale in questo senso e quindi come minimo un breakout del primo supporto statico che è questo posizionato intorno al 2045-2040. Lo stesso tipo di analisi, io questo ve lo voglio far vedere per farvi capire come non c'è bisogno di cambiare settaggi quando si usano i settaggi corretti, può essere fatto a livello intraday, questo è un grafico 4 ore dove vedete anche qui lo stesso tipo di funzionalità che hanno gli indicatori nel generare dei segnali di acquisto quando il mercato è in un uptrend, quando il mercato comincia a non essere più in un uptrend chiaramente il movimento diventa in prima battuta oscillatorio. Potremmo anche vedere successivamente come funziona il discorso in un downtrend, è esattamente ribaltato, lo vedremo col Mib. Una cosa importante è questa, i punti di flesso del composite momentum, cioè quelli dove in un uptrend passa dalla fase terminating che è quella sotto lo zero in discesa, alla fase up che è quella sotto lo zero in salita, quindi quando cambia diciamo in direzione, sono anche i punti dove il mercato poi trova supporto successivamente. E lo vedete, vedete, questo minimo diventa un supporto, questo secondo minimo diventa un supporto che non viene più violato in chiusura di quattro ore, questo altro minimo successivo diventa un supporto, questo minimo successivo diventa un altro supporto, e così via. Vedete che quando poi questi supporti cominciano a essere violati, come in questo caso, c'è una instabilità del trend, che poi viene confermata quando c'è di fatto la prima vera violazione che è quella che avviene a questo livello, quindi intorno al 2080. E non è un caso che quella che era la vecchia base, cioè il 2080, adesso si è diventato un tetto. Vedete che questo 2080, che era il punto sfondato il quale il mercato ha cambiato il trend, perché ha creato una sequenza di massimi e minimi decrescenti, di fatto adesso in questo momento sta diventando il tetto contro cui è andato a sbattere il primo tentativo di rally di mercato di pochissimo tempo fa. Adesso, quindi questa è la foto, di un mercato che ha una struttura laterale, non ha più una struttura rialzista questo mercato. Posso leggerti una domanda, Francesco, nel frattempo? Certo, come no, assolutamente, assolutamente. Allora, la domanda riguarda i cicli sempre. Se è possibile rappresentare un ciclo, ad esempio Tracy, sul time frame 15 minuti, con il composite momentum, cambiando i valori della formula? No, ma non ci serve, non serve a niente, perché guardate, vedete, questo è il 15 minuti, questi indicatori funzionano senza bisogno di nessun cambiamento di settaggi. Qui su un 15 minuti vedete che ad esempio abbiamo dei micro trend, perché questi ovviamente sono dei micro trend, una cosa che io vi suggerisco di fare sempre, quando operate, è di crearvi un trip plan. Fare un trip plan cosa significa? Significa selezionare intanto i mercati su cui andate a operare. Non è che c'è qualcuno che vi obbliga ad andare a operare solo sul MIB, o solo sull'SMP, o solo sul DAX. Voi dovete scegliere i mercati che in un determinato momento sono i più efficienti. Quali sono i mercati più efficienti? Quelli che hanno una direzionalità. Quindi dovete partire scremando, e quindi i mercati su cui voi dovete operare sono quelli che ad esempio hanno una positività a livello weekly e una positività a livello daily, e quindi sono direzionali a rialzo o a ribasso, non ha nessuna importanza a livello sia weekly che daily. A quel punto voi avete un mercato, come ad esempio era il silver fino a qualche giorno fa. Vi metto il silver per farvi vedere un esempio di quello che sto dicendo, perché è il primo che mi viene in mente. A livello settimanale, vi faccio vedere qua, adesso qui purtroppo non c'è perché è il contratto. e il contratto, beh possiamo comunque anche vedere l'oro che in realtà ha una dinamica non del tutto simile, però abbastanza simile. Voi vedete che, faccio per esempio per dirvi in questa fase, a partire da gennaio in avanti, qui avevamo un mercato che era direzionale a rialzo, quindi con un ADX crescente, il D+, il D- che erano ben incrociati, e a quel punto questo mercato dovevamo andarlo a vedere a livello giornaliero, qui ripeto stiamo guardando la parte iniziale dell'anno, e vedete che qui il livello giornaliero da questo momento in poi, quindi dal 20 gennaio in poi, confermava quello che veniva detto a livello settimanale, cioè che era un mercato a rialzo, con direzionalità a rialzo. A questo punto voi dovevate scendere ancora di un time frame e andare a operare a livello intraday, quindi a livello hour, ma anche se uno voleva essere più stretto, a livello 15 minuti, ma solo in direzione rialzista. Quindi i segnali tra virgolette short non dovevano servire per andare short, a cercare il top di un mercato che in quel momento era un treno che stava andando, ma cercare soltanto di andare a cercare i punti dove liquidare eventualmente le posizioni long. E tutte le giunture di acquisto di questo mercato erano delle ottime opportunità per andare a prendere delle posizioni long. Se io vado a scendere su 4 ore e vado a prendermi quell'arco temporale che era quello dal 20 gennaio in poi, adesso vediamo se riusciamo a farlo, penso proprio di sì, e se riusciamo a farlo è un'ottima cosa. Vediamo un po', ci vuole probabilmente di caricare un po' più dati. Caricchiamo i dati. Eccolo qua. Ecco, questo era a 4 ore. Cioè, guardate, questo è uno spettacolo. È uno spettacolo. Questo era il trend che vi ho fatto vedere prima, praticamente dal 20 gennaio in poi, a 4 ore. Vedete che in questo caso tutte le giunture di acquisto del Composite Momentum erano delle opportunità di acquisto. vedete in particolare come questo indicatore che è stato proprio studiato per individuare le fasi di riaccelerazione all'interno di un trend particolarmente forte come questo, dava un segnale di riacquisto qui in questo punto, dava un segnale di riacquisto in questo punto, dava un segnale ancora di riacquisto in questo punto prima della fase finale. Quindi, il fatto di selezionare un mercato su una base di più ampio respiro vi permetteva di andare a vedere dove effettivamente andarvi a posizionare in maniera ottimale, quindi senza dover cercare di tirar fuori dal mercato quello che non può dare. Io, personalmente, se non ho un mercato devo operare perché non c'è nessun mercato che ha una direzionalità. Personalmente non opero. Preferisco astenermi piuttosto che andare a inventarmi cose che di fatto sono semplicemente un tentativo di anticipare qualcosa che il mercato invece non mi sta dicendo. Va bene, abbiamo detto questo per cercare di identificare quella che era la situazione dello standard in porsa e quindi per cercare di capire com'era la situazione dell'indice americano. Vediamo l'indice italiano adesso. Voi vedete che l'indice italiano è un altro tipo di mercato, completamente diverso, nel senso che la correlazione tra i due è scesa in maniera particolarmente vistosa nell'ultimo anno e comunque abbastanza bassa perché comunque il mercato americano negli ultimi, se non mi sbaglio da 2008 in avanti ha continuamente sovraperformato i mercati europei a parità di valuta e quindi tutti quelli che hanno cercato di fare il sovrappeso dell'Europa pensando che l'Europa dovesse poi alla fine seguire il mercato americano hanno preso una grossissima cantonata. In questo caso particolare vediamo un mercato che è palesemente non è più in uptrend ma che ha detto a chiare lettere che non lo era più già in diverso tempo fa. Vedete che ad esempio basta tracciare una trendline in questo caso molto grossolana cioè proprio una cosa veramente da analisi tecnica di base a livello settimanale per vedere che qui c'era stato a fine dell'anno scorso un breakdown molto netto di questa trendline ma ancora di più dovevamo insospettirci quando c'è stata questa formazione rialzista questa perforazione dei massimi precedenti che poi non ha avuto un follow through e ha avuto invece una sequenza di minimi decrescenti. A questo punto la congiunzione di tutti questi fattori portava a capire che il mercato aveva interrotto la sua spinta rialzista. Noi siamo... Aga mi vuoi... Volevo chiederti una cosa che mi viene suggerita i due RSI come dobbiamo considerarli con i flessi del Composite Momentum? Ma vedete che sono abbastanza simmetrici nel senso che chiaramente io lo considero a due livelli non guardo tanto l'ipercomperato di per sé o l'ipervenduto di per sé quanto piuttosto guardo se l'RSI a breve è sopra o sotto l'RSI più lungo che è un'ottima indicazione per capire quando il mercato sta cercando di spingere in una direzione chiaramente poi gli eccessi vengono sempre tra virgolette pagati in qualche modo con delle correzioni dal mercato ma l'indicazione che io trago ad esempio se io dovessi tra virgolette formulare un trading system volante chiamiamolo così permettetemi per dare un'indicazione di un setup rialzista o di un setup ribassista a livello di setup rialzista potrebbe essere quello di dire devo avere il D plus sopra il D minus e devo avere il composite momentum in fase ascendente e l'RSI più corto che mi passa sopra l'RSI più lungo se io vado ad esempio a vedere quando è corrisposto a questo tipo di setup al mercato vedete che ad esempio è corrisposto a questa fase qui quindi noi prendevamo questa fase qua di rialzo che è una fase bella di mercato i mercati guardate che per oltre il 55% del tempo stanno in trading range e si muovono in modo direzionale soltanto per meno del 50% del tempo quindi andare a cercare di tirare fuori da un mercato quello che non può dare è come cavare il sangue da una rapa io parlo ovviamente di mercato inteso come in questo momento come indice quindi poi all'interno dell'indice sappiamo tutti che c'è una diversificazione di trend che è spaventosa anche all'interno di un indice abbastanza omogeneo come quello italiano vedete che il quadro in questo momento settimanale che è emerto da questa analisi sull'indice italiano è un quadro dove abbiamo scusate in cui ho sbagliato abbiamo un composite momentum in discesa un mercato che è in una struttura ribassista è andato a cercarsi una resistenza intorno all'area 19-19.2 che è un livello a mio modo di vedere importantissimo un vero spartiacque cioè il mercato non può essere definito fuori da una situazione di rischio fino a che non ritornerà al di sopra di 19-19.2 questa non è una condizione per dire sopra 19-19.2 il mercato italiano in un bull market ma è una condizione per dire siamo fuori da una situazione di rischio acuta passiamo in un altro stadio del mercato vedete che in questo momento non ci sono neanche particolari ipervenduti sul mercato vedete che questo RSI non è ancora particolarmente basso sono e l'RSI in questo momento è sopra all'RSI lungo quindi è una fase tipica di lateralità che poi è confermata a livello giornaliero se andiamo a scalare di un livello andiamo a livello daily vedete che questo è lo stesso identico quadro di mercato a livello daily esatto scusami vedete che in questo caso c'è una direzionalità che prevalentemente ribassiste il composite momentum qui ha cercato di fare un aggiuntore di acquisto ma per ora abortito e quindi potrebbe essere un segnale di debolezza del mercato il supporto importante qui in questa fase non è ripeto non è questo minimo di 16.800 ma è un po' più in alto ed è l'area del 17.000 circa che è corrispondente a questo flesso della Bollinger Band vedete dove sto posizionando adesso il cursore dove la Bollinger Band gialla quella arancione che c'è sta facendo il flesso quello è la vera area di supporto del mercato non è il precedente minimo a 16.800 che è quello che vedono tutti e vedete come in questo caso invece verso l'alto la Bollinger Band la parte piatta l'appiattimento della Bollinger Band corrisponde perfettamente con il massimo dell'area 19-19.2 quindi questi sono i nostri due livelli chiave questo è un mercato che se voi lo guardate a livello settimanale come prima è un mercato che anche ancora qui è a livello di 18.000 e questo 18.000 se l'hai visto non so quante volte negli ultimi 8 anni e quindi è un mercato fondamentalmente laterale allora domanda sarebbe utile applicare una media mobile al composite momentum per segnale per segnali operativi se sì quale media e a che periodo detto e fatto allora media mobile se io la metto io la metterei metterei una ponderata a tre periodi se proprio volessimo applicare una media mobile vedete che se io metto una ponderata a tre periodi qua praticamente ottengo una specie di sfasatura rispetto a quello che è il segnale del composite momentum quindi ottengo praticamente un ammorbidimento a questo punto dovrei plottare il composite momentum non più come histogramma ma come linea e poi dovrei mettere la media mobile applicata su questa linea cosa facilissima con qualunque tipo di software di analisi tecnica in particolare con la T3 quindi questo è il quadro della situazione in questo momento adesso a questo punto io terminerei questa prima fase e passerei a una seconda fase un po' più calda per la quale poi ci è avanzato abbastanza poco tempo ahimè ma che cercheremo io sono disponibile se i signori che sono dall'altra parte insieme a me sono disponibili sono interessati io sono qua e per me assolutamente non c'è nessun tipo di problema e quindi cerchiamo di andare avanti insieme su questa fase perché io vi faccio questo tipo di diciamo così di inquadramento perché è fondamentale voi dovete capire dove siete diffidate di tutti quelli che fanno previsioni sui mercati perché le previsioni non sono possibili sui mercati come in nessun altro campo è possibile una visibilità degli scenari abbastanza limitata oppure comunque il fatto di crearsi uno scenario non significa il fatto di prevedere qualche cosa significa il fatto di avere uno scenario di riferimento per avere uno scenario di riferimento bisogna conoscere la storia bisogna conoscere i fatti perché altrimenti si naviga nel mare dell'ignoranza e questa è una cosa che tutti voi dovete evitare accuratamente di fare con i mercati perché i mercati uguale soldi uguale rischio uguale un sacco di altre cose importanti cosa muove i mercati i mercati sono guidati dalla convenienza non da altro non sono guidati dalle banche centrali non sono guidati dalle grandi banche non sono guidate dall'economia non sono guidate da nient'altro che non dalla convenienza che si estrinseca attraverso i flussi di denari quali creano tendenze che si muovono in forma ciclica tutto nella vita si muove in cicli gli eccessi bolle e crash derivano solo da errori di valutazione e di posizionamento degli operatori questo quantitative easing è il primo tentativo pubblicizzato sì reale no di fatto ci sono stati questo in realtà è il terzo quantitative easing che fa la federal reserve nei confronti dell'economia americana adesso cerchiamo di vederli e di capire come si svilupparono qui ci sono la curva blu è quella dei tassi a lungo americani la curva rossa è quella dei tassi a breve americani voi intanto vedete come prima cosa se può essere di qualche utilità la conferma che siamo ancora in una fase di deflazione e quindi perché? perché chiaramente la trend line che governa questa curva dei tassi è comunque una trend line chiaramente discendente addirittura sui tassi è bravi siamo i minimi storici e questa è una situazione che è generazionale quindi questo non è un momento normale questo momento particolare che chi fra 10-20 anni ricorderà questo momento sui mercati dirà ma come ho fatto a non capire ma come ho fatto a non vedere che cosa doveva capire cosa doveva vedere lo cercheremo di vedere insieme adesso che cos'è un quantitative easing di fatto poi lo vedremo nel dettaglio di fatto è una manovra della banca centrale che provoca un abbassamento molto forte dei tassi a breve ma soprattutto un allargamento dello spread tra i tassi a breve e i tassi a lungo perché la banca centrale fa questo? la prima volta l'ha fatto nel 92 quando ha visto che l'economia faceva una gran fatica a risollevarsi dalla guerra del golfo del 90 e quello che creò fu così scioccante per l'economia americana nel processo di refinancing che ebbe l'economia americana fu così forte che vennero create le basi per il bull market successivo che fu quello più forte di tutti quello tra il 95 e il 2000 che portò alla bolla speculativa del 2000 sui mercati il successivo quantitative easing de facto cioè quindi non nominato così ma che di fatto era un quantitative easing che fece la Federal Reserve fu quello successivo alle Twin Towers quindi c'è una sequenza che cominciamo a individuare in questo senso dopo le Twin Towers paradossalmente fino alle Twin Towers anche se i mercati azionari già scendevano le economie non erano ancora in recessione andarono in recessione dopo anche se ripeto le borse avevano già anticipato questo tipo di andamento quando la Federal Reserve si accorse che ufficialmente l'economia americana era in recessione allora di colpo abbasso i tassi in maniera molto brusca e creò di nuovo una seconda volta questa grande forbice tra i tassi a breve e i tassi a lungo che permise poi all'economia americana di rifinanziarsi alle aziende americane alle banche americane di mettere i loro conti a posto e di ripartire per andare dove? sul top del 2007 quindi altra bolla speculativa e a quel punto c'è stato un altro crash che è stato quello del 2008 che tutti ancora ci ricordiamo io ho visto tantissima roba nella mia vita ahimè però forse anche neanche tanto ahimè perché anche per fortuna perché mi permette di ricordarmi abbastanza lucidamente perché quando c'erano queste cose io non è che pettinassi le bambole ma operavo e operavo sui cambi sulle valute e sui altri mercati finanziari e quindi mi ricordo esattamente che cosa si provava in quel momento terzo quantitative easing che è quello che tutti noi conosciamo sbattuto in prima pagina da tutte le parti e in questo caso vedete che qui il malatto ha richiesto un sacco di metadone in più perché ancora non ci siamo non ne siamo del tutto fuori soprattutto perché questa quantitative easing in realtà adesso è ancora attivo sia in Europa che in Giappone vediamo qual è la correlazione ad esempio che c'è tra questo tipo di movimenti e i mercati azionari sempre positivi c'è il quantitative easing di fatto fino adesso almeno negli altri due casi del passato ha avuto un effetto molto positivo anche dopo che è finito e secondo me la Federal Reserve di fatto ha cercato di rifare per la terza volta un'operazione che le era riuscita alla perfezione o quasi le prime due volte ma voi ripensando a quello che io vi ho fatto vedere e vedendo anche questa tabellina quindi durante il quantitative easing più 18% dopo più 220% crash meno 50% una recessione forte durante più 5% nel secondo caso dopo più 35% quindi neanche tanto crash meno 55% recessione fortissima questo giro tutta la parte del rialzo si è concentrata nel durante cioè mentre il mercato aveva i quantitative easing paradossalmente che cosa è successo? lo vedete qua il terzo grafico che ho aggiunto qui che è quello verde è quello dello Standard Imports per farvi vedere che tipo di correlazione c'è tra queste varie situazioni vedete che dopo che il quantitative easing è finito quindi dopo che questo rettangolo si è chiuso c'è stata una fase di riaccumulazione dei mercati questo era il 94 dove tutti io mi ricordo che erano ultra pessimisti ultra bearish sui mercati azionari e dopo invece i mercati azionari sono partiti e hanno fatto un bull market spaventoso anche qui nella fase del 2004 mi ricordo lucidamente quanto negativismo e paura c'era sui mercati azionari e dopo i mercati sono saliti molto forte e voi sapete tutti perché lo stiamo vivendo in questo momento qual è la situazione attuale dei mercati di adesso voi dite ma allora a questo punto corriamo tutti a comprare le borse perché se l'output delle due volte precedenti è stato questo allora anche l'output di questa volta probabilmente sarà un output enormemente positivo c'è un ma che adesso cerchiamo di vedere insieme intanto cerchiamo di capire questa slide vi fa vedere qual è la sequenza che porta al quantitative easing fino adesso la sequenza nei tre casi che ci sono stati è stata sempre la stessa assolutamente ripetitiva quindi crisi o la guerra del golfo o l'11 settembre o la Lehman intervento sui tassi a breve refinancing del sistema attraverso il carry trade cos'è il carry trade? non è altro che finanziarsi l'indevitarsi a breve termine andando a posizionarsi sulla parte lunga della curva per avere due tipi di vantaggi che poi vedremo sono stati quelli che hanno salvato le banche europee e in particolare le banche italiane da una crisi drammatica negli ultimi anni turnaround ripresa dell'occupazione fine degli stimoli accelerazione dell'economia boom dell'equity nuovi eccessi nuovo top del ciclo frenata inversione delle borse crash e recessione questo è lo schema che è avvenuto fino adesso il problema è di dove siamo noi adesso intanto siamo in punti diversi per gli Stati Uniti e per l'Europa e questo già di per sé è abbastanza un problema ma anche prendendo per buono il fatto che comunque l'economia americana sia l'economia leader e che comunque le multinazionali americane dentro di sé incorpori neanche molto di quello che è il profit factor delle economie emergenti perché di fatto le multinazionali americane sono quelle attraverso cui viene fatta gran parte del consumo sulle economie emergenti anche prendendo per buono questo c'è un problema di fondo abbastanza forte allora se uno vede il bicchiere mezzo pieno dice se il rialzo è proporzionale alla intensità dei quantitati vising a quello che ci dovrebbe aspettare da adesso in poi è un boom delle borse il bicchiere mezzo vuoto è quello che vi ho fatto vedere nella sala prima cioè che ogni volta il malato richiede più cure sembra avere meno effetti successivi ma il vero problema è che nel 94 e nel 2004 quindi nei due precedenti i mercati sono partiti da una leva cioè da un margin depth molto più bassa di adesso questo grafico vi fa vedere la situazione l'istogramma rosso il margin depth la linea nera e lo standard in course questo è il punto di dove erano finiti i quantitati vising precedenti e vedete che la leva in quel momento era molto più bassa di adesso adesso apparentemente il quantitati vising è finito ma il vero grande problema che sottosta alla economia americana è che non c'è stato nessun tipo di deleveraging voi allora in questo momento probabilmente se avete seguito fino adesso avete avuto questa forza questo coraggio vi chiederete perché non c'è questo tipo di situazione vediamo di capirlo intanto ci sono sei problemi in questo momento il primo è che le economie sono in frenata i modelli economici sono a ribasso i miei barometri che come tutti i miei modelli non esprimono nessun tipo di sentiment ma esprimono solo dei dati che sono in territorio negativo questo può essere una mid cycle contraction come altre volte nel passato può anche essere altro comunque la correlazione di questi modelli con le borse specie con i grandi trend è fortissima poi c'è un'assenza di leadership se voi vi ricordate i bull market che è culminato nel 2000 e quello che è culminato nel 2007 vi ricorderete che entrambi questi bull market avevano una leadership la leadership nel primo caso era quella della tecnologia e delle telecomunicazioni fortissima infatti il Nasdaq ebbe un'impennata spaventosa che poi fu quasi completamente ritracciata dalla discesa successiva nel secondo caso la leadership era una leadership di tipo finanziario e quindi i beneficiari ultimi di questo bull market erano stati i settori finanziari adesso non c'è una leadership e anche le aree di ripresa tipicamente back end of cycle cioè quelle di fine ciclo come gli emergenti e le materie prime non sono sufficienti a creare un trend stabile sui indici quindi la prima domanda è ma dove siamo in che punto del ciclo siamo perché questo il fatto che le banche centrali cerchino di linearizzare il ciclo economico alla fine diventa un problema perché si risolve in un problema di identificazione della posizione il terzo problema che è quello che vedremo che abbiamo visto è quello della leva finanziaria il quarto è quella della stagionalità e delle statistiche avverse il periodo maggio settembre è statisticamente quello meno favorevole per le borse non è un periodo dove per forza bisogna andare short ma è quello che è statisticamente meno favorevole voi direte ma questa è un'impressione selling me and go away tutte queste balle no è vero adesso ve lo faccio vedere con i numeri che sono dei begli amici per capire queste cose in particolare giugno è uno dei mesi più poveri di rendimento dell'anno anzi ha soppiantato il binomio settembre ottobre temutissimo come mese peggiore dell'anno nella media degli ultimi anni valutazioni abbiamo già parlato i pie non sono bassi e poi c'è l'oro questo trend rialzista dell'oro che magari ancora un po' embrionale perché non è che poi abbia fatto tantissimo è l'asset che ha fatto meglio però non è non è tantissimo non è che sia salito tantissimo l'oro non è importante di per sé quanto in funzione del suo ruolo di valvola di depressurizzazione del sistema cioè questa equazione che c'è in questo momento di oro a rialzo più borse non a rialzo più modelli economici in contrazione indica un ambiente di investimento ancora oggettivamente instabile tre grafici per spiegare meglio di qualunque discorso sia di qualunque discorso la stagionalità questo è il mio amico il topo meccanico il topo meccanico fa due cose nell'anno compara alla chiusura del 30 di settembre e vende alla chiusura del 30 di aprile quindi ha già appena venduto le sue azioni voi dite ma e allora adesso vi faccio vedere che cosa fa il topo meccanico questi sono scusa posso guardarti una piccola interruzione prima che arriviamo con l'ancio sul nastro al termine quindi in base a tutto quello che hai detto le considerazioni sul quantitative easing questa terza tranche di quantitative easing non dovrebbe generare i rialzi a questo punto non è che non deve generare i rialzi è che c'è un problema che vorrei affrontare subito dopo questo cioè quello del fatto che non c'è stato un deleveraging cioè mentre negli altri casi i ribassi e le contrazioni economiche avevano portato a un deleveraging del sistema poi lo vediamo se voi anticipo guarda poi torno sul discorso del topo in maniera tale da farlo dopo anche se so che molti sono interessati in questo discorso qual è il dilemma? è questo qua cioè che è completamente mancato in questo ciclo il deleveraging il sistema bancario e finanziario è come se avesse incorporato imparato le lezioni del passato dei due casi passati e dal 2008 quando ha visto che le banche centrali di nuovo ripetevano lo schema non ha aspettato la fine del ciclo come di quantitative easing come negli altri due casi per rientrare sul mercato ma ha approfittato della situazione sfruttando il supporto all'economia delle banche centrali per arricchirsi quello che è successo alle banche ad esempio europee italiane in particolare dal 2011 quando c'è stata la crisi del debito in poi è stata una cosa molto semplice loro hanno preso prestito dalle banche centrali a tasso zero hanno investito nella parte lunga della curva quindi hanno beneficiato per anni di una duplice utile enorme che era quello che derivava di un conto economico dalle cedole che continuavano ad essere generate a tasso zero in stato patrimoniale dalla rivalutazione delle obbligazioni che avevano in portafoglio in più in più guarda caso le obbligazioni che loro avevano in portafoglio erano garantite dalla stessa entità che gli aveva prestato i soldi cioè dalla BCE diciamo che rubare le caramelle ai bambini forse è più difficile quindi se erano titoli decennali hanno guadagnato da tutte le parti non sono ancora scaduti però chiaramente la mossa della banca centrale non è mica rivolta a nessun altro se non al sistema bancario cioè i tassi negativi della BCE sono un invito al sistema bancario molto semplicemente a mettere i propri soldi in circolo invece di continuare a farsi il giochino fine questo è il motivo per cui stanno portando le obbligazioni verso il minimo possibile di rendimento per disincentivare le banche a fare questo e per incentivarle a fare qualcos'altro cioè non pensate neanche per un attimo per una frazione di secondo che alle banche centrali gliene freghi qualche cosa degli singoli investitori privati detto questo torniamo un attimo alle tre slide per farvi capire cercherò di fare il possibile e l'impossibile allora strategia del topo vi ripeto si compra al 30 di settembre si vende al 30 di aprile qui c'è la statistica fatta da ProRealTime di quello che sarebbe successo se uno avesse fatto questa cosa dal DAX sul DAX dall'83 il DAX a questo punto per un investitore che avesse cominciato a farlo nell'83 non varrebbe 9.800 9.900 quello che è adesso ma varrebbe oltre 16.000 punti con 84 quasi 85% di trades vincenti solo su una base stagionale sul Fuzzimib se uno avesse cominciato a farla dal 98 quando l'indice era 30.000 infatti qui l'equity line parte da 30.000 per parificarsi all'indice in questo momento non avrebbe un Fuzzimib a 18.000 ma avrebbe un Fuzzimib a oltre 60.000 in particolare intorno ai 63.000 ciò nonostante il fatto che nell'ultimo giro all'ultimo anno la strategia del topo sull'Italia ha perso vi faccio vedere la slide prima torno su un attimo per farvi vedere come in realtà sul DAX quest'anno ha guadagnato il 3.42% perché è già chiusa sul Fuzzimib ha perso sull'SMP ha guadagnato il 7.68% e anche qui se uno avesse fatto da 67 questo è l'indice più difficile da tutti per applicare qualunque tipo di modellistica perché è come una tartaruga che è una corazza spessa così quindi qualunque roba che funziona sugli altri qui funziona un po' di meno e in questo caso questa strategia nonostante questo dà il 75% di operazioni inutile e il nostro S&P anche se non in modo così eclatante come nei due casi precedenti però varrebbe 2.400 e non 2.050 quindi sarebbe migliorato anche in questo caso vedete quante operazioni inutile ci sono state fatte negli ultimi anni e con che belle percentuali di grosse perdite non ce ne sono tantissime c'è il 2009 e mi sembra abbastanza ovvio che ci sia c'è il 2001 e mi sembra abbastanza ovvio che ci sia e poi c'è l'88 che è quello dopo l'87 dove qui si era preso una parte del crash dell'87 una parte non tutto quindi questo è uno dei motivi per una dimostrazione statistica di quando uno dice questo è un periodo che statisticamente non è propizio beh se uno storicamente non fosse investito in questo periodo male non farebbe alla luce di questi numeri adesso il gioco è finito game over e questo è quello che hanno fatto i mercati da 12 mesi a oggi hanno girato nella ruota come dei criceti tanta fatica per nulla gli hedge funds sono in grossissimi problemi grossissimi perché molte strategie non funzionano più non riescono più a funzionare questo li obbliga a prendersi dei rischi enormi per riuscire a giustificare la loro stessa esistenza ma anche gli stessi mercati non sono andati bene guardate queste sono le medie dei indici dei bonds le uniche cose che quest'anno sono un po' salite sono le commodities e in particolare i metalli ma se voi vedete qui qualunque tipo di combinazione una abbia avuto in asset allocation quest'anno si aveva davanti un segno più è veramente una persona felice e fortunata che cosa innesca un bear market cinque cose possono innescare un bear market una recessione una bolla speculativa un rialzo dei tassi un evento geopolitico e una bolla del credito in questi cinque casi in questo momento tre sono da eliminare perché? perché questa non è una bolla speculativa perché non siamo nel 2000 in cima a un mercato che è andato esponenziale non c'è ancora rialzo dei tassi anche negli Stati Uniti adesso non se ne parla più e non ci sono state finora e speriamo bene eventi geopolitici tali da cambiare le carte in tavola quindi quello che noi dobbiamo temere è o una recessione o una bolla del credito queste sono le due cose che noi dobbiamo temere in questo momento vi ricordo quello che ho detto all'inizio cioè che la situazione è una situazione di modelli economici che sono in fase di discesa in questo momento come abbiamo visto abbiamo detto poc'anzi la redditività del sistema bancario non può più essere supportata dalle banche centrali quindi o si cambia registro a livello globale fine dell'austerity riduzione delle tasse aumento della spesa pubblica parte una vera ripresa economica riflattiva non inflattiva ma riflattiva e di conseguenza i tassi salgono le borse salgono le commodities salgono oppure è inevitabile una recessione e forse un crash quindi la strategia che bisogna seguire è legata allo scenario che prevarrà in caso di ripresa fuori dai bond governativi che sono un sell of generation al primo accenno di ripresa che ci sarà sulle economie è vero accenno di ripresa e dentro settori indici legati al ciclo in particolare io vedo DAX emergenti come potenziali i leader del mercato in caso di avvitamento perdita di fiducia globale corso all'ultimo quantità di fising l'unico vero vincitore sarà l'oro bene non so se abbiamo ancora 5 minuti vorrei vuoi fare delle dipende allora cosa avevi in mente di ripresa qualche argomento in più no niente niente di particolare volevo chiudere facendo vedere facendo vedere il fatto che l'oro negli ultimi anni è stato l'asset che di gran lunga ha reso di più e quindi questo nonostante nessuno lo abbia raccomandato qui ritorno al discorso dei portafogli modello che in questo momento hanno in asset solo due hanno in in asset solo due cose volatile sono l'oro e gli high yield in euro possibili i prossimi ingressi high yield in dollar reemerge market bonds e forse mercati azionari emergenti questa è l'ultima slide che vorrei far vedere parla dei due peccati mortali dell'operatore questa stampate vela per favore in mente sono paura e arroganza ma mentre la paura è una qualcosa che non si può definire l'arroganza è una formula ego fratto conoscenza e quindi conoscere le cose implica avere rispetto del mercato conoscere la sua storia e la sua azione e quindi i mercati devono essere affrontati con conoscenza e mai senza far prevarire l'ego quando voi partite dicendo e torno alla slide di Aga dicendo il mercato è troppo caro è troppo basso è troppo alto il mercato è troppo tirato deve fare questo io vorrei speriamo che eccetera eccetera signori nel 99% dei casi avete già perso dei soldi bene vi ringrazio per l'attenzione anche per la sfuratura che mi avete consentito a cui ho visto che avete partecipato quasi per intero spero che la cosa sia stata di vostro interesse fateci avere un feedback e lascio la parola a Aga grazie a tutti esatto scrivetemi anche le vostre osservazioni e quant'altro commenti per quanto riguarda questo video i contenuti che avete visto contattatemi anche per quanto riguarda appunto la proporzione di apertura a conto vi ricordo che non è una promozione pubblica che è una promozione che è accessibile solamente a chi ha partecipato agli eventi di Francesco Caruso e non si può averla né via il numero verde né via chat né via nessun altro canale pubblico di WeBank vi ringrazio per l'attenzione venite agli incontri che abbiamo organizzato perché saranno due eventi bellissimi lo dico io ci tengo ci tengo ci tengo che voi ci siate perfetto ecco e poi ci vediamo a Genova e a Verona arrivederci arrivederci a tutti grazie